salve a tutti ragazzi e bentornati su mio canale io sono dragon rex e siamo qui con un nuovo episodio di resident evil di questa saga che abbiamo iniziato a fare sono ovviamente ricordo in compagnia del mio caro amico deus panzer 3 tv che mi aiuterà nel percorso che faremo di questo di questa saga quindi saluto panzer ciao panzer bentornato ciao dragon rex sono contento di continuare questa avventura sperando di non morire più e di andare avanti di non bloccarci perché di cose da fare ce ne sono lascio di nuovo la parola drago rex per i consueti saluti ok allora ragazzi come diceva panzer abbiamo avuto un po di difficoltà nel precedente episodio con i cani con il quale sono morto un po di volte perché devo dire non mi aspettavo dei cani così aggressivi e abbastanza pericolosi però siamo riusciti comunque andare avanti e a recuperare qualcosa come questa chiave che ci può essere utile allora innanzitutto ricordo di seguire questa saga per supportarla troverete ovviamente i link in descrizione dei canali di youtube di twitch di deus panzer li troverete anche sul suo canale youtube questi video quindi mi raccomando supportateci per questa saga e quindi partiamo andiamo avanti con il nostro chris che qui siamo ritornati qua abbiamo salvato quindi tu mi dicevi cavo panzer che dobbiamo andare a prendere il fucile se ci conviene da prendere il fucile sì perché ti sarà molto utile più avanti nel gioco allora dimmi dove più o meno possiamo trovare questo fucile allora devi andare nella hall e salire le scale ok quindi andiamo di qua a no 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 non puoi procedere a ok qua non possiamo più procedere dall'altra parte si dall'altra parte si comunque sali su allora sperando che non ci siano intoppi allora no 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 vieni verso di noi ok vai 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 ok ok da questa parte va avanti va avanti perfetto perfetto non abbia timori non abbia no 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 siate qui mi impensieriscono un pochino i cani quelli sono un po no i cani per il momento non disturberanno ok d'accordo allora dove vado giù scendi no no sali su scusami sali su sali su sulla sinistra 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 ok doppia anta doppia porta mi scusi deve andare nella nella prima dobbiamo dobbiamo partendo da sinistra però a dobbiamo tornare quindi dove stavamo con i cani giusto sì perfetto ok cerchiamo di andare spediti a questo in questo episodio allora adesso no 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 torna indietro va bene io pensavo dove stavamo dove stavano i cani si diciamo il punto di riferimento era quello ok non c'è problema torniamo indietro quindi di qua se adesso scendi giù stai attento allo zombie se riesci no 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 vai sulle scale vai sulle scale è attento sta attento cerca di evitarlo se riesci a mamma mia mi ha vomitato allo dei verso di noi ok te vai 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 no vai sulla porta qua bravo la fa prive è chiusa si tratta di una serratura antica del meccanismo semplice quindi non possiamo aprirla allora aspetta va in questa porta è chiusa l'emblema di un'armatura inciso sull'armatura dobbiamo andare a prendere la chiave quindi dobbiamo tornare indietro ok allora fai il giro fa il giro oddio c'è anche l'altro oddio mi sono in mamma mia ok è grande e grande visto che abbiamo schivato ai zombie sono abbastanza qua ce ne va un altro da qua non ci serve niente no vai avanti per antica che sblocca una porta l'aria aperta ok effetto centriamo adesso stai attento perché potrebbe vieni verso di non vieni verso di noi oddio cavolo mi è venuto mi è venuto all'improvviso addosso ok no vieni verso no sbagliata l'altra parte deve andare verso l'altra parte cerca di di evitarlo se riesci e vediamo facciamo un po avvicinare vediamo se riusciamo vieni qua bello perché dobbiamo andare dove sta lo zombie evoluto ok ok vado di qua sì a prima aspetta vedi l'inventario possiamo prenderlo vado di qua no no mamma mia mamma mia mamma mia si è svegliato quello è il crimson editor quale Kings querison intenti aspetta aspetta apri l'inventario ok usa usa l'erba e ma sto K USA va bene ok allora vai sali su appena appena prendi la chiave dal dal da qualcosa decide mettere la la pseudo chiave capito ok ora prendi adesso posso la morte da pace a colui che raccoglie questo emblema sì ok adesso metti la chia metti la chiave appena si finisce che bene perfetto è anche bene ci è andata bene ci è andata bene questa è una bella cosa bella trappola una bella trappola se vai avanti vai avanti ok la morte è tutto sì sì certo la morte allora vai questa porta è chiusa l'emblema di un elmo ok non possiamo aprirla quindi no per il momento no però più tardi sì più avanti sì allora scendi giù allora il consiglio che ti posso dare cerca di scappare il più possibile trovare una porta avvisa se io adesso scendo da questa porta mi conviene andare a diritto a quell'altra porta giusto allora se non hai di fronte il crimson ed vai dritto per dritto che c'è la 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 porta speriamo di di evitarlo scappa veloce non o che per strand c'è l'altra piantina al lato meno male ecce n'è un'altra non c'era il personaggio perché si è spostato è il corvo non c'era sia tranquillo non disturba insomma dove vado di quattro si bella ma allora adesso ok venendo e mo ci sta pure lo zombie non ci sta pure lo zombie cerca di evitare lo zombie perché devi aprire una porta che no fermati no vai avanti a questa no quella di dopo alle spalle dello zombie stai attento perché deve andare ad aprire una porta importante ok cerchiamo di evitarlo vediamo un po se ce la facciamo no no niente non ce l'abbiamo fatto a posta scappa scappa veloce sulla sinistra ok ha usato la chiave della villa nella che peccato non volevo sprecare quel coltello fa niente allora allora questa qua ci sono altri altri inchiostri ottimo bancone in legno di qua cioè ma non profumo e cadevole simile al vino che è ma di prendere ok chiuso perfetto adesso non abbiamo allora vai allora ascolta fermate un attimo vai sulla no super al pianoforte super al pianoforte no vieni verso di noi destra e vedi ci sta quell'armadio quell'armadio da spostare questo si prendi il lo spartito facciamo una suonata allora spartito musicale aspetta fammelo segnare adesso esci perché per il momento non serve possiamo uscire dalla stanza se è perché per il momento non serve quindi puoi uscire dalla stanza volendo volendo puoi tornare puoi tornare attento qua a dove dove abbiamo iniziato la puntata e ci andiamo a raccattare un po di roba perché deve andare a prendere la fiaschetta così ci leviamo pure questo e qualcun altro ok beh ci siamo capiti insomma eliminiamo un po di zombie quindi esattamente ah così mi piace vedi almeno eliminiamo un po ce ne sono un bel bel tanti e ce ne sono vedi vedi a parte cani adesso sta andando più spedito ha visto si cani erano davvero qualcosa di fastidioso allora noi dobbiamo andare dritto e ma ci tocca fare per forza il giro allora i crimson head per abbatterli per abbatterli c'è bisogno della del fucile le armi pesanti insomma e beh immagino di sì perché la pistola non serve mi sembra anche giusto dopo tutto allora ma dica facci tutto domande che no dove va non lo so chris aveva voglia di sganchirsi un po le braccia esatto no aveva da qualcosa da dire dica dica no no dicevo il crimson head spero di non incontrarlo per adesso sinceramente oddio oddio evita gli evita lì evita lì evita lì e vabbè evita lì un conto e ma dov'abbiamo mo ho lì ho lì stenti un attimo così poi dopo li bruci ti conviene io tono indietro eh l'ho capito però tu quando eri gli zombie tu devi andare spedito eh ma vabbè eh ma tu così ti sei bloccato eh ma tu ti sei bloccato la strada adesso eh non l'hai detto vediamo ok vabbè oh poco cane ma beccato quest'altro staccate vai vai dove vai da questa parte mi sono confuso ecco qua non ci abbiamo la becca no ma vabbè però in qualche modo dai l'abbiamo fatto in qualche modo non ci sono i cani ma adesso ci sono gli zombie eh ma ce ne vanno un bel po qui eh eh ma hai te l'ho letto cammina tu ti sei imbambolato ma dai eh vabbè scusi mi scusi allora eh però l'abbiamo l'abbiamo superato dai eh per problema è che mo ci tocca farli fuori tutti eh sì allora vediamo un po come siamo messi sulla tensione allora adesso ascolta carica carica la pistola ok allora cosa possiamo questo dobbiamo esaminarlo questo spartito no lo devi mettere per il momento nel baule perché manca un foglio ok quindi lo possiamo appoggiare guarda guarda la roba che c'è ok avevamo un'erba verde qua quasi quasi la uso che dice prendi la vecchia chiave aspetta che mi uso guarda guarda c'è un po di roba a terra eh te lo sto additano ora non l'avevo visto ok l'erba l'abbiamo usata cosa ci abbiamo allora due spray un fucile per mozione per il fucile e due caricatori buono ok quindi dobbiamo metterli prendiamo un caricatore ok vabbè dobbiamo mettere un po di roba a posto dai allora mettiamo lo spray no che c'è hai 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 messo lo spray posto un altro spray bello questa cosa sì perché mi è partito la il pulsante per due volte ok questo l'abbiamo messo a posto prendiamoci l'altro spray ok sono sono uscite all'improvviso queste cose qua non me le aspettavo perché ti ha te le ha passate wesker a wesker buono grazie wesker qua ci abbiamo i proiettili quello con gli occhi e con gli occhiali da sole sì 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 ho capito sì sì quello che è sparito insieme a gil esatto ok queste le prendiamo pure si abbiamo un bel po di proiettili punizioni e ci vediamo anche questi a posto queste le possiamo le possiamo lasciare giusto le cartucce le cartucce le possiamo lasciare no 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 combinare con quelle che hai perché per il momento non ti serve con queste dici per forza ok ok adesso prendi la vecchia chiave questa non è questa o se no aspetta fammi vedere prendi un po la fiaschetta prendi un po la fiaschetta andiamo a prendere la fiaschetta ok prendi la fiaschetta ok per il momento va a salvare perché così ci ci leviamo ci togliamo gli inchiostri diciamo i nastri ok no gli zombie questo è stato un po preso preso di mira no dico adesso salviamo così ci togliamo i nastri allora salviamo qui ok facciamo un po di salvataggio così lasciamo i nastri visto che per adesso non ci servono ok volendo puoi andare a volendo puoi andare a prendere anche la vecchia chiave così andiamo a prenderla come si andiamo a prendere fucile la vecchia chiave che sta nel baule e beh a sto punto visto che ci troviamo prendiamo ok adesso ci tocca affrontare i zombie immagino anche se uno spray sarebbe stato anche utile ma che si aspetta fammi pensare no secondo me dobbiamo tornare dopo per la vecchia chiave perché non abbiamo lo spazio per le per i due fucile sono ricordato quindi la lega volare a ti devi anche curare tra l'altro si mi sa che se c'è non so se c'è un'altra erbetta se no sono uso uno spray quella dove sta allora questa la posso lasciare quindi il momento se allora vediamo da ciò appunto a sto punto scusa un attimo usa usa l'erba che c'è nell'inventario altro non è un po spiegata magari uso lo spray di primo soccorso e comunque quanti ne hai fammi fammi vedere 1 2 3 allo 3 ce ne hai poi vedi giù scendi giù no non c'ho altro vabbè comunque per il momento sei coperto a 15 possiamo andare con questo perché tanto c'ho questo lebbe mister giusto curati curati per e tieniti un'altra uno spray volendo in nell'inventario chi cura di più l'erba mista o lo spray è uguale è uguale non cambia niente allora prendo lo spray di primo soccorso ok e mi curo con se io dai usiamo questo ok bene andiamo procediamo quindi andiamo ad ammazzare gli zombie dove erano prima se di qua non si può andare giusto controlla perché mi sa che sa vedi un po se è stata aggisata siamo venuti da lì la maniglia allora più avanti a vai questa porta aspetta vai questa porta acqua questa è aiutato la chiave della villa ok ok vabbè poi dopo ci va bene ci andiamo dai visto che è fatta dire è interessante questo c'è un grosso e andiamo e andiamo a prendere però il fucile se no non facciamo né l'una e nell'altra ok ci dobbiamo ricordare delle piante e non ti preoccupa no perché c'è comunque un oggetto da prendere qua ok ok poi vieni dritto verso di di nuovo vai no all'altra parte ok allora adesso ascolta a me vieni verso di no vieni verso di noi allora apri questa porta ma non c'è entrare adesso aprila e aprila ok vieni verso di noi se me la fa aprile ecco ok ok vai vieni verso di noi ok ok perfetto allora adesso dovevo andare dove stavano tutti gli altri zombie cosiddette sì allora quello di qua vale la pena ucciderlo per adesso no no lascialo perdere tanto tanto non ci dà fastidio quindi esatto dovevo eliminare quelli che stanno qui che sono un bel po oddio scappa 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 lo zombie allora scendi 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 evitalo evitalo vabbè brucialo 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 oramai perché perché non mi stai mai ad ascoltare non è necessario no perché ti lo volevo far usare a quelli dove sta vabbè dai diamo di qua sì troppo indisciplinato il mio allievo è chiusa ma già è vero un'altra volta anche qua quindi apri questa porta sì ok apri allora fai una cosa fai una cosa vai sulla si vai sulla sinistra vai sulla destra sì possiamo aprire qua sì ok sono spai di zombie di prima allora ascolta prendi allora prendi questo ascolta bene ascolta ciò che ti dico dimmi dimmi allora se tu oltrepassi il letto c'è un documento da leggere dopo di che se tu vai nel nell'armadio compare uno zombie e dietro lo zombie c'è la vecchia chiave che possiamo utilizzare per andare a prendere il fucile ok quindi devo eliminare lo zombie qua sono due sono due qua perché uno è già a terra sì perché quello qua si è perché quello poi si rialza ok dai eccolo eh ma se tu fai così leggi il documento se c'è dove è il documento eccolo qua diario del custode leggiamo 9 maggio 1998 stasera ho giocato a poker con scotte e alias della sicurezza e steve di ricerca steve ha vinto la grande ma credo che abbia rubato bastardo barato barato sì scusami 10 maggio 1998 uno dei pezzi grossi mi ha incaricato di prendermi cura di una nuova creatura sembra un gorilla scorticato le istruzioni sulla sua nutrizione mi chiedevano di dagli animali vivi wow quando io ho gettato un maiale la creatura sembrava giocarci prima di iniziare a mangiarlo gli ha strappato le zampe strappato le viscere mamma mia 11 maggio 1998 stamattina scott mi ha svegliato verso le 5 mi ha fatto prendere un colpo indossare una tuta protettiva e me ne ha consegnato un'altra ordinandomi di indossarla ha detto che c'è stato un incidente nel laboratorio sotterraneo lo sapevo che qualcosa del genere sarebbe successo quei bastardi di ricerca non dormono mai nemmeno nei giorni di vacanza 12 maggio 1998 e da ieri che indosso questa dannata tuta mi sento sporco e mi prude dappertutto quei maledetti cani mi guardano con una strana espressione così ho deciso di non dar l'uovo da mangiare oggi che vadano al diavalo 13 maggio 1998 sono andato in infermeria perché la schiena è ancora gonfia e mi prude mi hanno applicato una larga fasciatura e mi hanno detto che non devo più indossare la tuta di protezione voglio solo dormire 14 maggio 1998 stamattina avevo un'altra grossa pustola sul piede ho dovuto trascinarmi fino al recinto dei cani erano stati tranquilli tutto il giorno cosa molto insolita e poi mi sono accorto che alcuni erano scappati forse si sono vendicati per il fatto che non ho dato loro da mangiare per tre giorni se qualcuno se ne accorge sono in guai davvero seri 16 maggio 1998 gira voce che stanotte è stato ucciso un ricercatore che cercava di fuggire sento caldo e prurito dappertutto e ora sudo in continuazione mi sono grattato un mi sono grattato un gonfiore sul braccio e si è staccato un intero pezzo di carne purulenta cosa diavolo mi sta succedendo 19 maggio 1998 non ho più la febbre ma il prurito rimane oggi ho fame ho mangiato il cibo dei cani 21 maggio 1998 prude prude brutta faccia scott l'ho ucciso buonissimo 4 non si sa quando ok adesso vai ok se riesci ad evitarlo e prendere la chiave e scappa subito ok prendi la chiave subito come l'ho detto ok ok prendi la chiave e scappa ok scappa scappa veloce 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 no bastardo alle spalle via via alle spalle mi ha preso guardi adesso curati adesso curati si troviamoci e usiamo ok ok adesso vai la porta in fondo però sblocca la solo perché ti porta al corridoio principale della parallela alla sala da pranzo ok adesso dobbiamo andare di qua giusto si aspetta aspetta è tornato indietro che c'è la bomba come arma secondaria per fare un bel botto agli zombie bello mi piacciono i botti appunto lo faccio prendere apposta ok dove va a volendo volendo adesso che ci sei adesso fammi un attimo l'inventario ok adesso usa la porta la chiave che sta appena esci così prende il fucile andiamo a prende fucile a pompa e dobbiamo tornare subito qua devo uscire quindi se devo andare la prima stanza se la va appena esci qua usando una vecchia chiave ok perché l'altra volendo la dobbiamo fare la dobbiamo andare a prendere eh l'altra chiave la dobbiamo prendere dove ho sbagliato io ok qua c'è un'altra bomba si prendi l'altra bomba ok così abbiamo due qua c'è il fucile anche questo si esatto di prendere quello qua c'è anche la tanica e allora fai una cosa fai una cosa fai un po di piazza pulita qua però aspetta aspetta senta a me vabbè le tanica per adesso è buono a sapere che sta qui dici di ucciderli adesso è uccidi uccidi gli zombie uccidi gli zombie il fucile lo posso prendere adesso si ok uccidi gli zombie vai colpisce e torna aspetta vai spara no è che cavolo aspetta spostati un attimo se non esplode esplode ferma non esplode aspetta a posta è morto ok lo possiamo bruciare giusto no 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 quando è così no è vero è scoppia la testa è escluso è escluso la testa ok è vero attento aspetta brava aspetta bravo vedo che sta imparando qua ce n'è un altro sali su attento no spara su spara su è morto questo non c'è bisogno di bruciarlo giusto aspe se stasvi ce n'è stato altro però aspe ferma o che spara no spara normale normale aspetta poi baci vicino vedi se ci sta la fiaschetta vediamo un po non è necessario perché veramente ancora allora sparagli ancora vediamo un po facciamo avvicinare c'è manco bisogno di usare la fiaschetta ok queste due porte possiamo aprirle queste vedi vedi no pensa che questa suona l'elmo la chiave dell'elmo vedi un po apri e chiusa l'embrino dell'elmo quella quella atto torna indietro torna indietro che la c'è il crimson ed torna indietro subito torna ma perché non mi ascolti lo so ma fa tutto il giro vabbè dai vabbè scendi giù come siamo l'ho messo il dito ok vabbè allora ascolta visto che mo ci ritro ci troviamo lo zombie di fronte oramai adesso uccidilo e lo bruci così d'ora in poi non ci ci dà più fastidio e devi tornare nella porta che ti ho fatto sbloccare poco fa e dove sei tu adesso bravo capito e che cavolo e muori è un bastardo questo ma che fatto questo anche se è fatto di vabbè ha fatto spiegare un sacco di pallottole prova attento no e vaffanculo vabbè ma bomba dai la bomba aspetta aspetta la bomba meno che lo siamo tolti davvero da manzo torna indietro torna indietro ok è spuso anche l'altro ok dobbiamo andare di qua no 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 torna indietro a questa porta almeno iniziamo a eliminare un po di zombie dai allora ascolta vai vai ok va nella porta questa qua nella porta a sinistra ok dai che ci siamo ma immagino che qua le abbiamo uccisi un po tutti gli zombie o no fammi vedere fammi vedere un attimo l'inventario ok ti andare a prendere l'erba curativa la cura di moda d'ora in poi devi stare attento a vabbè qui noi cosa dobbiamo fare dobbiamo ancora uccidere no al momento no perché sono morti però l'abbiamo già fatti fuori sì 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 sono morti devi solo per andare a prendere la cura però non si sa mai questa porta che sta qui è il save è il punto di salvataggio è la porta di prima no non sono entrati qua e te l'ho detto il punto di salvataggio vabbè noi dobbiamo tornare comunque indietro giusto no però aspetta aspetta senta a me senta a me bella bella ti faccio prendere un'altra cosa di qua sì posso entrare quindi sì vai piglia la gemma oh qua c'è un altro baule c'è eh te l'ho detto ah e quindi possiamo tranquillamente letto logo qua non c'è niente allora prendi prendi molto non colore disgustoso ok qua c'è la macchina da scrivere per salvare non c'è altro sì però per il momento eh ok ok allora la gemma è qui allora io devi prendere la gemma la gemma blu eccola qua ok adesso anche se mi volevo curare però prima aspetta tanto non serve adesso va bene fidati allora torna indietro mi conviene salvare che dici no non serve adesso vai allora posso uscire sì allora torna nel punto dove siamo dove siamo venuti quindi da tutto sto corridoio ok sì vai avanti vai avanti no 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 vai avanti ok vai verso sinistra vai verso destra ok vai questa volta qua cosa c'è un coltello beh uno pugnale che ci può sempre essere utile apriamo qui sì oh prendi la gemma blu ok usiamo sì Emma ti devi avvicinare però vai vai giovane qua sì vediamo se oh ne manca un'altra o no sì wow proiettili cartucce cartucce sì sì per il fucile cartucce per il fucile ottimo adesso valli a valli a posare che non ti servono ok quindi questo è un altro ok quindi questo è un altro diciamo enigma del gioco no cioè non enigma devi trovare insomma ok vai no ok vai là devo andare a posare le cartucce no sì andiamo a posare volendo adesso volendo adesso puoi anche curarsi e salvare perché adesso dobbiamo andare a uccidere gli zombie che purtroppo tu hai lasciato quali vabbè comunque a meno qua l'abbiamo eliminati dai sì a meno qua l'abbiamo un po' eliminati io direi che ci possiamo anche fermare qua per questo episodio aspetta aspetta perché aspetta perché ti devo fare prendere le maschere lo stemma che ti ho fatto saltare io prima a inizio e è una cosa importante ci sono delle porte da aprire non me le dimentico e no vabbè magari lo facciamo al prossimo episodio vai come vuoi lo facciamo al prossimo va bene allora prendo le i nastri per salvare ok così chiudiamo questo episodio e poi proseguiamo nel prossimo ok allora salviamo quanto abbiamo fatto più o meno eh abbiamo fatto un bel po' ok poi l'abbiamo fatto allora sovrascriviamo questo perché altri non ne possiamo fare esatto ok 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 ragazzi allora io direi quindi ci fermiamo qui per questo episodio abbiamo fatto un bel po' di cose dai tutto sommato qualcosina l'abbiamo fatto abbiamo ucciso qualche zombie quindi ragazzi se vi è piaciuto l'episodio mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale per supportare la saga ringrazio il mio caro amico Deus Panzer 3 TV per grazie mille per l'aiuto che mi sta dando e niente ragazzi noi ci vediamo al prossimo episodio di Resident Evil ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti